La zona franca per i territori del Terramano, colpiti dagli ultimi eventi sismici, interesserà almeno 10.000 imprese, cioè tutte quelle che dimostreranno di aver avuto una diminuzione del fatturato del 25% a causa del terremoto e delle nevicate. Il decreto, piuttosto confuso, prevede un ristoro complessivo di 197 milioni per il 2017, una somma che coprirà appena il 10% delle perdite. Dunque una zona franca modesta, secondo l'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Terramo, che hanno lavorato mesi per preparare un va-de-mecum esplicativo da distribuire a colleghi e imprenditori per semplificare la compilazione delle domande. Questo documento che voi preparate è molto importante perché è difficile sapere quando e come accedere alla zona franca. No, diciamo che nel frattempo sono arrivate anche delle circolari da parte del Ministero in questo senso che ci hanno aiutato un attimino anche a comprendere alcune cose e a preparare questo documento facendo in modo comunque di semplificare anche quello che è scritto nella circolare perché in pratica abbiamo preparato nel documento una checklist di tutto quello che i colleghi dovrebbero preparare, chiunque vuole fare questa domanda e allo stesso tempo abbiamo spiegato un attimino chi può accedere, a quali condizioni può accedere, quali sono i soggetti, imprese che possono accedere a questo documento, a questa agevolazione. Quali sono le zone che possono accedere o usufruire della zona franca? Le zone e i comuni che possono accedere alla zona franca sono quelli che hanno subito gli eventi sismici e sono quelli del terremoto dell'agosto dell'anno scorso, poi del terremoto del 18 gennaio di quest'anno, degli eventi sismici di quest'anno. La finestra di tempo entro la quale poter presentare le domande per accedere alla zona franca è davvero strettissima, dal 23 ottobre al 6 novembre. Ecco perché l'Ordine dei Commercialisti di Teramo e Lance, Associazione Costruttori Edili di Teramo, hanno organizzato per venerdì 20 ottobre un convegno per spiegare alle imprese modalità e termini per accedere alle agevolazioni previste per il sisma del centro Italia. Noi spiegheremo tutto questo durante il convegno del 20, venerdì 20 prossimo, che faremo unitamente a Lance, nel quale convegno presenteremo un documento redatto proprio da una commissione interna al nostro ordine che ha lavorato in maniera molto specifica ed attenta per la redazione di questo documento che verrà presentato unitamente alle relazioni di altri colleghi che vengono dallo studio Fantozzi.